Chi è Brocco? Eh, sono io. È quello di... Brocco spara a pied'occhio, gli sparo e tu... No, vergognati tu! Nooo! Ma siamo andati! Ma Pyrid chi è? Un amico di Oshka! Chi è Oshka? Io! Ah! Encarnage! Ma St. Am5 Si è Green Wolf. Bello! Ma Derfel dov'è? Ma Derfors dov'è? Non so... Beh Micheel... Che cazzo ho fatto? Ma dov'è Derfel? Ma Paolo in tutto il gioco! e te il primo dato oppure il posto di vola vola con uno su di scorda un certo rendo che era una cosa perchè il specifico questo ti ha perso certo tutti vogliono sapere i cazzi degli altri ma perchè per un attimo pp il rino non sono un po' un po' diventa cacarso michelo questo era sempre un mistero misterioso devo bannare sivir dove è sivir oddio non ce l'ho mai pensato adesso potrò dire dove è sivir no ma è nato master y ma come faccio le equazioni c'hai problemi fangulo ed è bravo quel trash no se tu che c'hai problemi no 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 è bravo se tu che c'hai problemi concordo con i problemi mi hai mai stato già un grab di trash no no quello che vuole si certo si diceva si c'è si c'è stanno sempre con un hp fra l'altro si è sempre il primo è zero che riesce a farsi grabare tu li complimenti ma non è zero è lui appunto ti mette il culo in testa questo cos'è amostra di tono mamma come mandare di tempo e so qua per me per esempio di cui però ma so ma che stai pensando dai golem vai picciamolo vediamo il blu starta da red con fiddle Beppo dovresti restare almeno tipo qui nel bush perché potrebbe... Ma non è Beppo, quale è Silvia? Eh, che ho detto io? Meno male che ho scaccio Vai Derfel, ulti ingaggia ulti ingaggia, vai! Ma che cosa un cagione è? È un cussitano È vero, se fossi andato là sotto saremmo potuto morire tutti, Derfel perché non l'hai voluto? Perché io sono un tempo intelligente Oh no Ma puoi essere anche intelligente, ricorda? È proprio una contraddizione per definizione Oh merda, mi hanno messo un disco nuovo Vai! Mi ha avvisato Spero che non si sarebbe l'ultima testa di questo corso Non ho avuto quando va a ripresa Quando mi saldo sotto o a cazzo di tempo? Quando si sta avvicinando L'ho fatto, non ho avuto Perché non ho avuto Eh, l'hai fatto quando t'era passato attraverso da 10 minuti, tipo Sono passato soltanto 5 di minuto Non ha senso che devo stare col timing là a vedere Ho fatto l'ultimo, basta, quella è Ho detto che i tank sono ignoranti Ha messato lo stesso No, l'ho f... Ha fessato! Per me è diventato un me Ma dai! Ho messato la cosa Ma... Silvia sta registrando Perché lo vuoi sapere? Non so, Victor, è proprio... Eh? È il derfall del loro team Grazie Comunque, ho letto un articolo E ho scoperto che nel deserto si può vivere quanto si vuole con la sabbia C'è sabbia in abbondanza Se tu, per esempio, vuoi fare un castello di sabbia E virtualmente puoi fare i cartelli infiniti Oh, castelli infiniti Cartelli, dici? Non li ha guardato dentro di me, Silvia Non li ha guardato quello che sono Un tizio con un martello Martello! Sono solo negli apri con un martello Cioè, Mercury Hammer e Mercury Cannon Cannello! Sono un minion Avanti, bambini! Mamma Oka è qui! Ci sembra Mamma Oka? No Attraversiamo la strada tutti insieme Poi si vanno a suicidare sotto la torre Ma non ci sono cartelli qui Cartello! Ah, vabbè, no No, è proprio il sistema piccino Terribile! Avessi dovuto tirargli addosso il cartello Cartello? Tututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut Grazie.